I tirocinanti della regione, così vengono definiti, però io vorrei aggiungere attese, attese, attese. Questo è stato l'iter che per anni ha accompagnato almeno mille persone, più o meno siete mille mi pare, che hanno pensato di poter lavorare specializzandosi, preparandosi a dare delle risposte ottime per il loro lavoro e seguendo quelle che erano le promesse della regione Calabria. L'associazione Senzanodi è venuta a conoscenza di quella che invece è oggi la reale situazione, che diventerà gravissima dopo il 31 di gennaio e ha deciso di accompagnarli in questa loro protesta e chiediamo aiuto a tante altre associazioni, a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questa problematica e soprattutto chiediamo aiuto alla politica onesta, quella che fa promesse e poi pensa di poterle mantenere. Di promesse non mantenute, non ne abbiamo più bisogno, non ci servono. Dal 31 gennaio la situazione sarà gravissima perché se queste persone non lavoreranno più, i servizi che abbiamo avuto sino ad oggi, magari anche un po' zoppiganti, però anche quelli sarà difficile averlo e la sanità continuerà a precipitare. Qual è oggi la situazione? La situazione è molto semplice, al 31 di questo mese noi cesseremo la convenzione scade e quindi ad oggi ancora non abbiamo idea di cosa andremo a fare. Una convenzione fatta con la regione che dura da due anni? Sì, due anni, sì. Giustamente tu parlavi di essenzialità. Gli uffici presso i quali noi prestiamo servizi da due anni sono uffici che soffrono di una carenza di organica già cronica, accentuata dal recenti quotecento, prepensionamento, eccetera. E quindi siamo diventati essenziali, come dicevi tu, in uffici che non sono uffici marginali, sono uffici che erogano prestazioni all'utenza quotidianamente. Qua si parla di formazione professionale, quindi del personale alleasi, di assenzione ticket, di prestazioni che hanno a che vedere con i portatori di handicap, ecco, l'elenco di prestazioni tipo l'analisi di tutto il genere e anche al CUP abbiamo persone che lavorano quotidianamente e che fanno fronte a un'utenza sempre più arrabbiata dall'altro perché spesso i servizi sono carenti. L'essenzialità di per sé non è requisito di stabilità perché pur essendo essenziale ad oggi non esiste all'orizzonte nessun provvedimento che possa farci stare tranquilli in merito a questa situazione.